Nel 54, il contattista Truman Baturum raccontò le sue esperienze con gli extraterrestri che provenivano dal corpo celeste chiamato Clarion, un corpo celeste che se non sbaglio non è visibile dalla Terra perché in una prospettiva lo spiega comunque bene, andatevi ad informare. Una decina di piccoli uomini dello spazio, una decina di piccoli uomini dello spazio, condussero il contattista Truman dal comandante della loro astronave. Il comandante della loro astronave era una bellissima donna di nome Aura Ranes. Questa donna disse che erano atterrati sulla Terra per riaffermare i valori della famiglia e della vera religione universale, quella che in sanscrito si chiama Sanatandarma, espresse ovviamente, grande preoccupazione e addirittura spavento per la possibilità di una guerra atomica.